Buona giornata, oggi un pensiero filosofico di Samuel Beckett, importantissimo, bellissimo, ho sempre provato, ho sempre fallito, non importa, prova ancora, prova di nuovo, fallisci ancora, fallisci meglio, oggi un pensiero importantissimo sul fallimento, il fallimento è una cosa, è un'abilità che dobbiamo imparare fondamentale per il raggiungimento dei nostri sogni, perché se impariamo a fallire meglio, quindi a trovare la strada giusta per il successo, per i nostri sogni, stai sicuro che come diceva Beethoven, prima o poi li raggiungerai, così anche Samuel Beckett dice, fallisci ancora, fallisci meglio, questa cosa è fondamentale, scrivimi nei commenti che cosa ne pensi e vediamo un po' se riusciamo a trovare la strada per fallire ancora, ma fallire meglio per raggiungere i nostri sogni, e viva i sogni, e viva chi si muove verso i propri sogni, certo sì, sbagliando, e allora che male c'è? Dobbiamo sbagliare per trovare la strada giusta, quindi oggi ti auguro una giornata bellissima, una giornata verso l'avvicinamento dei tuoi sogni, fallisci meglio, meglio è la parola fondamentale di oggi, Daniele Pace, per felicità e pace, Om Shanti 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 Shanti, buona giornata, ciao! Ciao!